Una raccolta fondi per il guardrail che avrebbe potuto salvare la vita di Lorenzo. L'appello lanciato più volte in questi giorni dai genitori e dai fratelli di Lorenzo Forte è stato ribadito nel pomeriggio di martedì 21 gennaio quando a Savio si sono tenuti i funerali del giovane 17enne morto il 14 gennaio scorso quando la sua minicar è precipitata nel canale Cuba a Milano Marittima. Lorenzo stava tornando a casa dopo aver frequentato lo stash a ristorante Turing di Milano Marittima. Tutte le persone che martedì hanno partecipato al funerale, alla camera mortuaria e in chiesa hanno risposto all'appello dei parenti, collaborando alla raccolta fondi fatta partire in questi giorni. Tutto il denaro raccolto sarà destinato a finanziare l'installazione della barriera stradale lungo quel centinaia di metri di Viale Nullo Baldini dove attualmente manca. Per la causa è stato aperto un apposito conto corrente sul quale è possibile effettuare un versamento o effettuare una donazione di persona alla filiale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna di Savio di Ravenna in via Romea Vecchi 25. In memoria di Lorenzo Forte la causale del conto corrente sul quale non saranno applicate commissioni al momento della donazione. La speranza è quella di riuscire a vedere tutto il Viale Protetto con il guardrail. Lorenzo avrebbe compiuto 18 anni il prossimo agosto, frequentava la scuola alberghiera di ristorazione di Cesenatico. Cucinare era sempre stata la sua passione fin da piccolo. Questi e molti altri ricordi si sono susseguiti durante l'ultimo saluto. Amici e parenti si sono stretti attorno ai due fratelli, al padre e alla madre strazzati dal dolore. C'è chi ha frequentato un lungo viaggio per essere presente oggi per sposare quella che nei giorni scorsi è stata definita al contempo una battaglia e un regalo. Di fronte alla tragedia casuale e inspiegabile, un giorno qualcuno avrà la vita salvata grazie al guardrail voluto fortemente dalla famiglia di Lorenzo, un dono alla comunità.